Oltre le gambe c'è di più... In quanto Radio Ufficiale è l'unica, abbiamo dei privilegi, Tito, per avere Annalisa con noi. Buonasera! Buonasera! In realtà ero già qua da un po', mi ero già accomodata qua nella pubblicità. Dicevo, oltre le gambe c'è di più perché sto guardando nel visual, no? Il 202 del Digitale Terrestre, cioè oltre le gambe c'è Gino Castaldo. No, io in questo momento so di essere invidiato. Beh, vabbè, in questo momento, scusa, cosa un uomo può pensare di più bello, insomma. Annalisa, com'è andata? Bene, bene, sono contenta molto. C'era tensione anche stasera, diversa rispetto a ieri, che era bella, frizzante. Stasera più anche concentrazione, è la seconda, quindi no. Abbiamo rotto il ghiaccio ieri. Certo, perché poi il pezzo è già, c'era grande aspettativa, quindi ormai, insomma, la gente già lo cantava. Sì, ecco, siccome da ieri la canzone esiste, in giro stai avendo già l'immagino dei feedback vincenti, no? Sì, 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 ci sono diversi feedback, è andata molto bene, ho visto che sta streammando, stiamo lì che controlliamo, no? Vabbè, vabbè, per certo. Praticamente ogni dieci minuti sta andando bene, sta andando bene. Questa è la musica di oggi, è così, è... Numeri. Quello che è cambiato tanto, una delle cose di evoluzione della musica di oggi è questa, no? C'è questo tempo reale, non esisteva, no? Allora dovevi aspettare, prima di scoprire, a voglia, no? C'erano... adesso è tempo reale, capisci tutto. È tutto veloce, è tutto velocissimo. Senti, ti ha presentato Magnini, ma voi vi... Magnini, no, no, niente, la doppia N è un problema. La sua mi viene bene. Sì, c'è anche... Analisa. Analisa, e Magnini. Ma voi vi siete visti prima di vedervi sul palco o tu sei entrata da una parte e lui dall'altra? Io sono entrata da una parte e lui dall'altra. Quindi non vi scampiazze? Ci siamo guardati mentre io ero lì dietro che stavo per entrare. Quindi non avete provato prima, è stata una roba... No, tutto super così improvvisato, studiato, preparato, esatto. Chissà domani ti toccherà presentare anche a te. Sei contenta di fare questa cosa? Ma assolutamente sì, mi sembra un'idea molto bella, perché così... Molto, lo stavamo commentando anche con Amadeus prima, cioè il fatto che lui ci chiedeva, no? Cioè, perché è vero, dà una sensazione, come è bello che sia, anche un po' più di solidarietà del mondo musicale, no? Sì, è vero, questo... Spesso non si sente, invece... È vero, infatti anche a me piace molto questa idea. Poi comunque siamo tutti coinvolti tutte le sere, no? Sì, c'è una piccola cosa però dà un segno, no? Di amicizia, di... Però, come ci diceva Loredana, un outfit in più, un trucco in più... Questo è vero. Questo sì. Questo è assolutamente vero, se no si poteva stare, tu dici, un po' sdraiati... Sul divano. Però non si canta, però non si canta, dai, quindi comunque... Cosa hai fatto oggi? Ci racconti la tua giornata, la giornata di Annalisa al Festival di Sanremo com'è? Allora, io mi sono svegliata più o meno verso le 9 e meno un quarto... Vabbè, non hai dormito? Non ho dormito niente, chiaramente ieri sera sono stata sveglia tanto, mi sono addormentata intorno alle 4, perché comunque alle 2 e mezzo uscivano i pezzi, quindi c'erano tutti i posti da fare... Certo, alle 2 e mezzo di notte? Eh sì, alla fine del festival, quindi abbiamo aspettato tutti insieme, abbiamo fatto tutti i post, le stories, le robe, abbiamo preparato tutto, nottata e stamattina a più o meno quest'ora qua sveglia, trucco, parrucco e poi si esce, c'è stato un attimo di sosta, interviste tutto il giorno. E adesso cosa farai? Adesso non so se andare al ristorante perché è un po' tardi. Ho qualche dubbio, potrei recuperare le ore perse di me, potrei provarci. Ma sei giovane, ce la puoi fare anche al sabato. Allora, grazie a tutti, anche io, ovviamente, ci vediamo venerdì, è un attesissimo duetto. Sarà delle cover, sarà un momento stupendo, noi ti aspettiamo insieme alla presentante. Non vedo l'ora, non vedo l'ora, davvero. Anche noi, mamma mia, sweet dreams, io già col braccio in su. Grazie, grazie a voi, buona serata. Buon proseguimento. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.